Un primato che nessuna città vorrebbe avere è quello che è toccato a Forlì. Secondo l'annuale studio di Euromobility 2018, Associazione Nazionale dei Mobility Manager, sulle 50 principali città Forlì nel 2017, con 9,35 incidenti a ogni 1.000 abitanti, distanziando di molto la seconda città, Bergamo, con 7,6, è la prima città italiana per incidentalità. In Regione ci segue Rimini con 6,9, media nazionali quasi la metà di Forlì, con 4,54 sinistri ogni 1.000 abitanti. Anche il tasso di mortalità negli incidenti con 1,6 morti ogni 100 incidenti è nella parte alta di questa mesta classifica, che ha una media nazionale di 0,96 morti ogni 100 incidenti. I dati della sinistrosità stradale devono fare riflettere sulla situazione della sicurezza stradale a Forlì e devono far aprire un motivato dibattito con iniziative mirate per contenere questa sinistrosità da record. Bisogna però dire che i dati del 2018 ad oggi sembrano migliori, almeno nel contesto provinciale. Ad esempio, come estensione di piste ciclabili in chilometri ogni 10.000 abitanti, Forlì ha il quarto posto preceduta solo da altre tre province emiliano-romagnole, Reggio Emilia, Ferrara e Modena. Per la qualità dell'aria, il report ci dice che Forlì si è fermata a una media di 30 sfuramenti di diossido di azoto rispetto al limite annuale di 40, miglior dato nella regione e nei primi 12 fra tutte le 50 città prese in esame. Discreto anche il 24esimo posto di Forlì nella graduatoria della mobilità sostenibile. Grazie. 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 Grazie.